Stiamo andando a provare la California T sulle strade del rally di Monte Carlo. Si aspetta la salita al col de Turinino. In questa prima parte stiamo sfruttando principalmente le doti di ripresa del nuovo V8 Ferrari caratterizzato dalla gestione variabile della coppia. La vettura dispone di una spinta piena fin da 1500 giri. La spinta arriva in modo immediato e pratica i vantaggi di un motore turbo senza il tipico ritardo nell'erogazione. Ora il percorso diventa più corposo, va aggredito, giocando con più decisione. Marettino in sport, l'assetto è controllato, fermo, lo sterzo diretto per un inserimento preciso con il minimo sforzo e il minimo input volante. I freni carboceramici di terza generazione sono sempre pronti, potenti e modulabili. Ancora un tornante, non c'è fading grazie alle nuove pastiglie, è un tornante sempre prevedibile e estremamente modulabile. Qui apprezzo nel frattempo moltissimo le sospensioni che copiano un fondo abbastanza sconnesso, preferibile forse utilizzare il tasto di disacoppiamento per mantenere un'ottima copiatura degli avvalamenti della strada. Nella guida cittadina la California T si apprezza al meglio con il cambio in modalità automatica. Il motore è incredibile, spinge fin dai bassi, non è necessario andare forte, però è bello sapere che lo puoi fare. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS